E' in arrivo un provvedimento del governo centrale destinato a tutelare l'utenza farmaceutica, soprattutto quando in ballo ci sono farmaci, salvavita. Ci tiene a sottolinearlo Dario Pandolfi, consigliere di Federfarma Salerno, e lo fa rimarcando come, in un momento in cui c'è penuria dell'insulina, rilascio graduale di una certa casa farmaceutica, era stata la Federfarma Salerno, a paventare con largo anticipo la possibilità che si verificasse il disagio che adesso si vive per l'assenza dal mercato di alcuni farmaci. Alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera ridotta da parte dei fornitori intermedi. Questo è un fenomeno che Federfarma Salerno ha analizzato e ha comunicato al Ministero della Salute già nel febbraio del 2013. Purtroppo, alcune volte, il prezzo del farmaco in Italia risulta essere più basso rispetto alla media europea. Di conseguenza, tutti coloro che hanno la licenza per vendere farmaci all'ingrosso, in base a una normativa europea, possono vendere questi farmaci all'estero. Di conseguenza, diminuiscono le scorte per il mercato italiano. Adesso c'è in itinere un provvedimento di legge che serve fondamentalmente a tutelare l'utenza. Sì, il Ministero della Salute sta preparando un provvedimento che dovrebbe poi essere approvato che impone ai fornitori intermedi di avere un determinato numero di pezzi di alcune specialità medicinali da un elenco che stabilirà il Ministero della Salute. Quindi questo potrà arginare il fenomeno della distribuzione di questi farmaci verso l'estero che comunque, voglio dire, è un fatto pienamente legale perché è previsto dal Codice della Comunità Europea. Le farmacie vengono contingentate su questi farmaci, con queste specialità di cui se ne è parlato ieri. Quindi diciamo che è difficile trovarne più pezzi in una stessa farmacia. Però speriamo che il provvedimento del Ministero della Salute riesca ad arginare questo fenomeno. All'interno di alcune categorie di farmaci ci sono delle specialità medicinali che al momento risultano essere mancanti. O meglio, sono insoddisfacenti rispetto al numero di richieste. È un fenomeno che ha un carattere di distribuzione del farmaco all'interno del territorio e non riguarda solamente la provincia di Salerno. Le segnalazioni sono arrivate da varie fede farmaci, per dire Veneto, Roma, Marche, Abruzzo. Quindi non è un fenomeno limitato alla provincia di Salerno. Di conseguenza un ASL non può intervenire materialmente per questo problema. All'interno di Salerno